Ecco che li vediamo, Giuliani smarca Novellino, ecco il traversone di quest'ultimo, ben calibrato, arriva Picon dalle retrovie, lasciato incustodito, il suo colpo di testa, vedete, filtra tra le gambe del portiere Corrigan ed il risultato si pissa sul 2-1. Buono il traversone di Novellino, buono anche il colpo di testa di Picon, ma per poco il portiere distinto non riusciva a intercettare. Ora siamo sul 2-1 al 14esimo, naturalmente Picon che ha giocato veramente molto bene, si tratta di quel giocatore di origine sudafricana di cui vi avevo parlato all'inizio della partita. Boot per Donachie, Hartford, Palmer, buono il passaggio per Kigan il quale batte a rete, Albertosi attende il rimbalzo e blocca. Rivera, Rivera, De Vecchi Rivera, Buriani, Maldera, Desterno anticipo tiro di Novellino, ecco Picon, tiro e gol. Questa volta il gol è valido, azione confusa, un po' fortunosa, il Milan riacciuffa il pareggio e siamo al 37esimo della ripresa. Ancora Albertino Picon, ecco l'azione. Maldera, Desterno, avete visto l'anticipo di Boot, il tiro di Novellino, una deviazione di un avversario, scatta a tempo Picon e sull'uscita del portiere in fila. Siamo sul 2-2, siamo sul 2-2 doppietta di Albertino Bigon che fissa il risultato sul piede di Paritapido a questo momento. Restano al Milan.